prova cronometrata eric granado valencia miglior tempo il tempo corrente vediamo vediamo i tempi questa prova cronometrata la mia non mi ricordavo il partito la prova cronometrata parte subito il giro ancora ancora non è partito quindi forse di fare da fare un GMO4 in modo che passa sta lì fatto dai 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 modo GP faremo delle partite online di modo GP categoria 250 600 cavalli 1000 cavalli quella 1000 è difficile già la 600 si cade spesso con la gulva lo frisano con la gulva lo frisano ma ti ricordi che in una mappa abbiamo fatto tipo 40 secondi e invece un minuto ma questo sono i percorsi più di minuto non lo so su quale questo non so quanto deve durare però si cambia di poco non lo so e l'intertempo lo stai facendo insieme agli altri perchè ho fatto le quattro indicazioni c'è le striscette rosse le striscette le striscette non lo so non sono uscito a fare le mie ma tempo corrente ma vediamo intertempo più 0,50 ma vedi sulla minima quanto è stato successo va 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 0,40 ma c'è l'intertempo secondo me alla fine comunque hai fatto 1,45 quasi prima si la devi fare tu però io? perchè quella va in continuazione è normale va in continuazione se tu devi migliorare 1x4 devi cercare di fare di meno di 1x45 che hai fatto tu capito? però poi quando arrivi alla gara devi fare tu cioè alla fine o se no parti ancora a me è normale partiamo, passo giusto 2 e faccio questo qua 1x16 1x16 un tertempo meno avrei fatto almeno meno 32 centesimi di 6 vino mezza cibo proprio non ci sono sempre in richiandelle non ci sono sempre in richiandelle non ci sono sempre in richiandelle ecco aspetta ma cosa accelta? vai hai fatto? 1x45 1 minuto e 45 ho di frenata ma che già frenare i vari pressi però qua dì sbagliate non bisogna andare a mezzo buono valencia valencia tu mi devi leggere sotto ma dici intertempo ci ho perso qualche seconda sotto e c'è scritto tra poco c'è scritto intertempo quindi? intertempo significa che ti dice in quel punto della gara se sono stato più veloce io e tu di quanti secondi capito? e c'è scritto sotto no adesso? eccola adesso intertempo più sono quasi un secondo più lento di te sono al momento ora sono ancora peggiorato con questa curvata però un secondo è un secondo troppo lento troppo lento qua c'è sto più uno e quattro un minuto no un minuto un secondo è un minuto eh 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 già sta piando in mente finito? finito? più due secondi più due secondi più lento di te più due no più due secondi e cinquanta non bisogno l'ho fatta uno e quarantacinque adesso ti faccio eh? che? adesso ti sconfigo è pronto? è pronto? a subire la mia ira ma va fanno caduto cioè caduto sul caduto sbagliato ho sbagliato preparate stai che devo passare giusto come passa la stai andora mai non ti vuole più che ti ha avuto? e ai vedi che hai 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 cosa hai ho detto meglio giocare oh bello ma è bello a meglio è che non ma Qua è finito? 1.45, stai finito, sono caduto, 1.51, tra più 6 secondi, ci mi sa, esagerato, se voglio E' molto più sensibile alla motocicletta, molto più sensibile alla moto, appena tocchi un po', basta che freni un po', se non freni bene, sbilanci un po', l'equilibrio Infatti io sto parlando Prove valensie, prova cronometrate, abbiamo un 0.145.058, io dopo me lo segno questo record, perchè poi, più avanti puoi far cercare di cambiarlo, di superarlo, adesso vediamo il record 2, ce lo segniamo su questa pista, record 0.1.45, 0.58, stai, oh, meno uno, sei meno un secondo, perchè ora stai iniziando a prendere un po', la mano, questo è finito, e vediamo in me, noi bene, chiusa un appare, cosa mi sembra ci trovare, lo so, che fai la punta, guarda, uno, due, tre... 1.43, record, wow, wow, oh yes, oh yes, delice, mamma mia, questa questa pista c'hai un minuto 1.43 con Eric Granato si oh caduto devo dire di fermarci che dici? hai fatto 0 1 43 7 4 1 aspetta punto punto 7 4 va bene facciamo una gara adesso aspetta ma aspetta un attimo oh ben 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 alla prossima ragazzi un saluto ciao